riscoprire la mobilità dolce quella che conserva l'autenticità della lentezza che permette agli occhi di adattarsi pian piano ad un paesaggio che cambia assonautica acque interne veneto emilia ha messo a punto un progetto di grandissimo valore per tutta la provincia di rovigo che sfrutta la dolcezza delle acque fluviali per offrire al turista e al viaggiatore curioso un modo poco sfruttato di visitare un territorio con la collaborazione di fiab rovigo centro polesano studi storici archeologici ed etnografici e grazie al contributo della camera di commercio di venezia e rovigo assonautica ha dato vita a navighiamo il museo diffuso dell'acqua è un progetto che mira a sviluppare attività turistica da adria a zelo in un territorio dove ci sono tante piste ciclabili tante situazioni culturali molto interessanti che possono essere visitate navigando sul canal bianco che poi è stato ribattezzato per motivi storici nella nostra progettualità in fiume di mezzo perché si trova tra l'adige e il po e navigando su questo fiume di mezzo ci sono c'è la possibilità di attraccare lungo il percorso e ci sono molti percorsi ciclabili che utilizzati portano ai tanti siti culturali che si trovano in questo territorio l'obiettivo è quindi quello di valorizzare le peculiarità culturali e paesaggistiche del territorio che sta tra mantova e il delta del po una lingua di terra poco conosciuta spesso tralasciata dalle mappe più blasonate ma proprio per questo scrigno prezioso che custodisce storia cultura arte racconti percorsi naturalistici ed enogastronomici ma anche verdeggianti piste ciclabili imperdibili nonostante il covid stia premendo il freno sulla maggior parte delle iniziative turistiche assonautica ha voluto guardare avanti con fiducia presentando il progetto a livello nazionale e legandola ad altre iniziative dello stesso sapore di cui si è parlato durante un convegno tenuto sia a metà settembre abbiamo fatto questo convegno per condividere le esperienze e capire come poterci muovere a questo punto abbiamo anche dato la nostra disponibilità per la prima manifestazione di rovigo 920 navigando da adria a rovigo con personaggi in costume dell'epoca mettere a fuoco le realtà turistiche emergenti è uno dei focus su cui il progetto navighiamo il museo diffuso dell'acqua punto ai riflettori con il progetto l'asso nautica ha voluto mettere quindi al centro dell'attenzione siti naturalistici quali possono essere quelli di trecenta abbiamo scoperto favorevolmente questo questa quest'area umida con un grande valore naturalistico e che che consiglio a tutti nonché le aree architettoniche come la realtà di fratta la villa badoera e le aree di trecenta dove dove ci sono delle dei siti architettonici naturalistici veramente di grande pregio di grande valore che possiamo proporre a un turismo locale ma prossimamente spero anche un turismo nazionale e internazionale molti gli imprenditori locali che si sono messi in gioco e che hanno dato vita alla sperimentazione di tre percorsi tra i più caratteristici sono state così messe a punto la via dell'archeologia la via dell'acqua e il percorso tra ville e castelli queste sono solo le prime che si potranno scoprire salendo e scendendo da imbarcazioni particolari che consentiranno di rendere ogni gita un percorso ad anello imbarcazioni che proponiamo consentono gruppi a gruppi di 30 persone di poter viaggiare in sicurezza e di poter quindi poi interagire con dopo la navigazione con le vie ciclabili quindi utilizzando le biciclette per raggiungere questi siti importanti dell'area polesana